Prende il nome di Downtown l'operazione di vigilanza info-investigativa della Polizia di Fano per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti nelle zone del centro storico del Lido e della Sassonia. Un'operazione che ha permesso di individuare i responsabili di tre crimini avvenuti ad agosto. Il primo episodio riguarda le indagini sui furti di biciclette in centro storico che hanno portato il Tribunale di Pesaro a emettere la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Pesaro e di Rimini nei confronti di un 36enne domiciliato a Fano ma di fatto senza fissa dimora. L'uomo aveva approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per introdursi nel giardino e impossessarsi di una bicicletta elettrica del valore di 1.350 euro e di tre carica batterie. L'aveva poi ceduta ad un rumeno residente a Pesaro per poter acquistare sostanze stupefacenti. Il 36enne veniva trovato in possesso di droga e dunque tratto in arresto. La bici rubata è stata prima rinvenuta in possesso di un terzo soggetto residente a Cagli, denunciato per ricettazione e poi riconsegnata al legittimo proprietario. Il secondo episodio riguarda due croati, padre e figlio, trovati in possesso in un camper di sette borse griffate del valore di 20.000 euro rubate quattro giorni prima in un'abitazione di Fano e dunque sottoposti a fermo. Grazie all'analisi delle telecamere presenti nel condominio e alla presenza di alcuni indumenti femminili a bordo del veicolo, è stata individuata quale autrice materiale del furto la moglie del giovane arrestato. Nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico eseguita in provincia di Milano, dove la donna è stata rintracciata assieme al marito. Terzo episodio, un furto subito da un addetto alle pulizie delle strade del Lido, al quale era stato rubato il portafogli dal mezzo di servizio. Anche in questo caso è individuato il responsabile, un 28enne dimorante a Fano, che è stato denunciato.